Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piacerà lasciatemi un like e mi raccomando iscrivetevi al canale per vedere nuovi video. Oggi vi parlerò di come ho realizzato un camino elettrico. L'idea mi era venuta vedendo questo su Amazon. Il prezzo era conveniente per la tipologia di camino alto quasi un metro e idem largo e rispetto appunto ai simili che si possono trovare su internet. Quello che non mi convinceva era questa griglia così argentata che qui viene definita elegante ma a me ispirava tutt'altro. La prima cosa che ho fatto pertanto è stata dipingere la cornice argentata con una pittura acrilica bianca e la griglia stessa che è magnetica si poteva anche rimuovere con invece una pittura acrilica a spray di nero. Il risultato che è venuto fuori già mi piaceva e volendo può essere lasciato così. Ho voluto tuttavia apportare ulteriori modifiche che sintonassero un pochino di più con lo stile della mia stanza, in questo caso il salotto. Ho preso quindi un listello come vedete dalla Leroy Merlin di quelli decorati e ho provveduto appoggiandolo appunto sulle parti che volevo rivestire a prendere delle misure con la matita. Ho tagliato poi il listello di legno con una sega a mano. Con una pistola a caldo mi sono limitata ad incollare appunto gli stelli di legno alla cornice metallica che avevo precedentemente pitturato di bianco. Una volta incollata la cornice ho riposizionato il zughero, la corteccia che avevo trovato durante una passeggiata dentro la griglia e l'ho fissata anche questa con la colla a caldo. Poi ho preso una pittura acrilica nera e sono andata a rifinire e a ricoprire tutti quei punti dove si era andata a staccare lo smalto della bomboletta per via dell'adesione con la colla a caldo oppure semplicemente per le manualità del montaggio e questo è il risultato finale. Spero vi piaccia! Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e mettetemi un like. Ciao!